80 milioni per l'Aquila per Natale per il diciannovesimo elenco di contributi per finanziare i lavori privati. In questo diciannovesimo elenco dovrebbe esserci anche l'aggregato del Duomo di San Massimo, opera del valore di circa 35 milioni di euro e che non comprende però la cattedrale in sé, che andrà giudicata tramite un appalto pubblico con altri 10 milioni di euro, finanziati da Cipe. Un progetto che per ora si trova all'esame della sovrintendenza, che a giorni potrebbe però rilasciare il parere, definitivo sia tecnico che economico. La commessa privata se l'è giudicata intanto il Consorzio Sant'Emidio, un'associazione temporanea di imprese e ati composta da SAC, SPA, Costruzioni Iannini SRL e DP Restauro SRL, che ha vinto la gara d'appalto privata lanciata sul quotidiano economico il sole 24 ore dal Consorzio, in un clima però di polemiche che ricorderete a causa dei requisiti e richiesti, tali da far fuori dalla corsa tutte le aziende locali, operazioni che sono durate anni, sia per la contesa sulla natura di bene pubblico e privato della Chiesa, con ingerenza della curia dei vescovi abruzzesi sul governo portata alla luce da inchieste giudiziarie, come è noto e tutto scritto, sia per l'impasse all'interno del Consorzio stesso, con un rimpallo di responsabilità contro la stessa arci di Ocesi. Così dunque dovrebbe terminare la questione, e per riportare all'antico splendore anche il Duomo di San Massimo, che ormai già ci ha abbandonato, come segnalano anche molti turisti, con le erbacce alte che crescono all'interno.